Maybe In love Ciao a tutti e salve qua, qui X2 Star che parla e oggi siamo qui con un Extech Crafting o quel cavolo che si, come cavolo si chiama Ehm, non ho un cazzo da fare, voglio vedere quanta lucky posso essere, quindi Si, saranno 16 casse, quindi Vediamo quanta bella merda otterrò Ehm, sono, ho già, ho già djsona quindi non me ne faccio nulla di questa skin Alla lucky Ehm, Malphite glaciale, mi piace questa skin Bella, non gioco Malphite però nel caso un giorno mi viene a voglia di giocare Malphite So dove provare la skin Dai, qualcosa di bello Extech Annie, Extech Annie Dai Ehm, io ce l'ho Ce l'ho già a Syndra Anche al 5 Cioè, Syndra è il terzo sempre con cui mi trovo meglio e voi mi date Syndra Ma, andate a fanculo Ehm... 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 Boh, forse probabilmente si, quel simbolo vuol dire che è Legacy però Non sono un amante delle skin Ehm... 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 Kogumou grago cinese, mi piace questa skin non ho Kogumou quindi... Ehm... Ehm... Lasciamola lì, lasciamola lì al momento Dai Dai, dai Qualcosa di bello, dai Lume... Lume... Che palle Lumi, odio Lumi Gli aspetti di Lumi sono le cose... Non mi piacciono Cioè, ne ho... Ho due aspetti di Lumi, sì Però... Non è che sono tipo Oh mio Dio, adoro questo... Questo aspetto di Lumi Devo... Devo assolutamente vantarmene sempre e comunque E... Morgana esiliata Questa... È Legacy ma... È una di quelle skin che proprio fa schifo Ma proprio schifo Che... Fa così tanto schifo Che a momenti preferirei avere Lux E... Qualcuno di voi sa per... Sa il mio rapporto con Lux Ho già Aurelion Sol però Che palle Che palle Ho già Aurelion Sol io Che poi ho due Urgot What the fuck Ho due Urgot Ho trovato adesso Rengar Svv Bella skin Ma Rengar mi fa schifo Quindi... No No Rengar Champion di merda Champion di merda Rengar Mamma mia L'odio che ho per quel gatto è... Jax Ho già Jax Ho già Jax Ho già Jax Che... Che frase orribile Posseggo già il campione denominato Jax Ecco Molto meglio Kitty Kat Katarina Ecco questa è una bella skin Purtroppo non ho... Purtroppo non ho Katarina Però... Però... Dato che sono un main mid Katarina per un po' la dovrò prendere E... Quando la prenderò... Oh... Guarda un po' Guarda un po' cosa ho qui Ah... Mi gusta Brava Riot Brava Riot mi piace Mi piace Non sto avendo così tanta sfiga Non sto avendo così tanta sfiga Non sto avendo così tanta sfiga Perché non sto zitto? Cioè... Perché non sto zitto? Allora... Qui... Ci sono racchiuse due cose che odio La prima cosa che odio sono... Sono gli aspetti dei lumi La seconda sono i poro Sì... Non mi piacciono i poro Mi fanno stifo Sono orribili Non sono coccolosi Non ho la lingua fuori... Manco fu solo dei cani E io i cani li odio Quindi... A me non piacciono i poro Però mi piace Brom Ecco... Una cosa strana Odio i poro Però adoro Brom Nonostante io Brom Non ce l'ho come champion Perché... Beh... Cosa? Riot Blitzcrank Eh... C'è di meglio C'è di meglio Ok... Ultima chiave E... O la va o la spacca O la va o la spacca Ti prego qualcosa di bello 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 Mal fight Vaffanculo Vaffanculo Vabbè... Allora... Ne approfitto qui per... Disincantare Un Urgot Quante me ne servono? Per cosa? Potenzia... Ah... Ce l'ho già... Bene... Viene a me Ah... Ho controllato la cosa sbagliata Quindi ho disincantare qualcun altro Disincanto te E... E... Disincanto... Singra Ehm... Sì, sì Disincanto Singra No Voglio troppo bene a Singra per disincantarla Farò... Una cosa... Più bella per Singra Allora... Prima di tutto potenziamo il piccolo nero Ehi... Ehi... Finalmente ora... Oh... Luzione E... Adesso... Ti dovrei già avere appunto... Ti ho già... E adesso facciamo... Questo e... Oh... Com'è che si mettevano? Ecco... E Urgot... Perché Urgot mi fa schifo Dai... Un bel Champion Un bel Champion Ehm... Sorry... Un bel Champion Dai... Dai un bel Champion È un bel Champion Però non è ciò che mi aspettavo Un bel Champion ma non ciò che mi aspettavo Vabbè... Sono piuttosto unlucky Quindi... Sì... Questi li disincanto subito Perché... Tanto non li utilizzerò mai E poi mai E mi danno comunque... Mi danno essenza... E senza quella che devo utilizzare per le skin Quindi è perfetto Ecco... Disincanto anche te Ehm... Il resto lo tengo perché sono Legacy quindi... Me le tengo cioè... Mica le butto via Ebbene... Per questo episodio è tutto E noi ci vediamo in un prossimo episodio Bye Bye Ciao 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 Ciao